Voi sapete che il pareggio di bilancio inserito in Costituzione è una norma palesemente di impianto neoliberista, serve a sottrarre ulteriore sovranità agli stati che fanno parte dell'Unione Europea, noi siamo assolutamente contrari, tant'è vero che nel nostro programma uno dei punti cardine sulle battaglie che faremo se riusciremo a entrare in Parlamento superando la soglia al 3% sarà proprio quella di eliminare questa norma omicida per aderire la soglia. Le aziende e imprese che non riescono evidentemente a usufruire di politiche espansive che in Italia non ci sono perché dovendo andare a pareggio di bilancio lo Stato non può attuare questo tipo di politiche a vantaggio del tessuto socioproduttivo. Se lo scostamento di bilancio non sarà consistente, non sarà vibrante entro la fine dell'anno, molte imprese non riusciranno a coprire i costi e tant'è vero che molte di queste aziende hanno già cominciato a minacciare cassa integrazione, sono pronte a mettersi su quel sistema di contenimento. Questo secondo me non è fare economia per il proprio paese, è legittimare un neoliberismo finanziario che favorisce soltanto i mercati internazionali della finanza.